Cristo santo! Scusate ma gli ultimi 5 minuti sono stati al cardiopalma in sta partita Ero sempre lì a urlare di spazzarla a chiunque, cioè vabbè Allora, sto parlando della Juventus primavera, prima partita ufficiale della Juve primavera della stagione Vabbè, scusate ho combinato un mezzo macello, vabbè E finisce 2-1 per la Juventus, giocavano in trasferta, quindi 1-2 in realtà E niente, bella partita, bella partita, i nostri sono stati... Allora, la partita inizia con... Allora, no, le marcature sono aperte da un calcio di rigore Procurato da Asa e messo a segno da Kiboso, tra l'altro lì ha tirato un rigoraccio Non so come la palla si è entrata in porta, perché ha tirato il rigoraccio centrale Il portiere è rimasto centrale, la palla gli ha sbattuto addosso ed è entrata in porta Vabbè, botta del culo allucinante, vabbè, ma andiamo avanti Poi arriva il 2-0, praticamente dagli sviluppi di un calcio d'angolo Zwangô che recupera la palla dall'altra parte rispetto a dove è stato battuto il calcio d'angolo Rimette in mezzo il pallone e Turco in mezzo a 4 fa il gol del 2-0 Nel secondo tempo viene assegnato un rigor alla Fiorentina per fallo di schiena Sì, nel senso, Zwangô salta con il braccio alto e probabilmente l'arbitro ha pensato l'avesse presa col braccio Però in realtà hanno fatto vedere i replay e Zwangô l'aveva presa di qua Schiena netta, però calcio di rigore in ogni caso e 2-1 Nella Fiorentina, appunto, 2-1 E niente, da lì la Fiorentina ha iniziato un po' ad uscire Cioè, si è in attimo rivitalizzata perché era calata un po' E da lì la Juventus ha iniziato a, diciamo, si è compattata per bene dietro e non ha concesso niente Intanto mi arriva la notifica del fatto che la partita è finita In realtà è finita due minuti fa, ma vabbè E nulla Alla fine è finita così Menzioni d'onore Allora, Muaremovic si chiama È il nuovo difensore, mi piace È forte, ha fatto qualche intervento molto molto buono Durante la partita è sempre stato attento Nei calci piazzati lui la prende sempre di testa E la spazza via Quindi veramente ottimo Mi è piaciuto Savona che l'anno scorso non avevo visto perché era andato in prestito alla SPAL Primavera Mi è piaciuto molto Asa È calato un po' nel secondo tempo, ma grazie nel primo corso come forse è nato E vediamo Ce n'era anche un altro che mi era piaciuto Però dovete farmi un attimo pensare perché quest'anno nuova squadra primavera sì che ho resettato tutto Porco Giuda Savona l'ho detto Amore L'ho detto Asa l'ho detto Vabbè, questi tre più e altro Dai Ma è lo stesso No Comunque no, a parte gli scherzi Mi piaciuto Nel primo tempo mi sono piaciuti molto Asa e Savona nella fascia destra Perché erano imprendibili, non li fermavi Tra l'altro ogni tanto li vedevo quasi giocare a memoria È una cosa che adoro Sapete già quanto mi piace Asa come calciatore Perché veramente l'anno scorso quando ha debuttato io sono rimasta impressionata Nel senso è uno che corre tanto e a me piacciono quelli che corrono È uno che mena tanto e a me piacciono quelli che menano Diciamo che fa legna E oltre a questo ha anche i piedi molto buoni Quindi è quel tipo di calciatore che se ce l'hai contro ti sta sulle scatole in una maniera allucinante Ma se ce lo hai in squadra lo adori Quindi niente, sono contenta Ho trovato il mio preferito della primavera anche quest'anno L'anno scorso era Miretti Adesso Miretti è il mio preferito dell'Under 23 Quest'anno sarà Asa Ma che l'anno scorso in realtà era il mio preferito dell'Under 17 Quindi va bene Va bene, detto questo, bravissimi ragazzi Siamo partiti con una vittoria, era importante Squadra che è rimasta sempre molto compatta Difesa molto attenta Abbiamo preso appunto gol solo sul rigore inesistente Quindi cosa volete che gli dica Bravi ragazzi, sempre fino alla fine Forza Juve Forza Juve, Under 19 o Primavera Che dir si voglia Ciao ragazzi Ciao ragazzi